Il lunedì arriva con i cittadini il progettista, mi riprometto con lui di fare tutto il giro dalla Napoleonica a Montegrisa dove c'è il progetto e dopo naturalmente cominceremo a discutere, a parlare e naturalmente a spiegare ai cittadini quello che vogliamo fare e come lo vogliamo fare. Oggi hanno presentato il fatto referendum, quindi si procede, poi arriviamo anche ai documenti arrivati a Roma, come incide? Ma non mi incide, loro non sanno più che è santo votarsi, erano quattro gatti, poi li conosco, William Starge, loro hanno le loro idee, quando ho fatto le rive c'era uno che mi gridava in Consiglio Comunale, lei sta facendo un'autostrada sulle rive, è un'autostrada, è una cosa bellissima per la nostra città. Secondo lei è un referendum già politicizzato? No, sì, basta, li guardi tutti, hanno tutti la stella rossa in pinta, no? Eh sì, li conosco tutti. Che è arrivata questa nuova comunicazione ufficiale, che di fatto avete dovuto chiedere a Roma, quando per voi era scontato, perché vi dicessero, no, quei fondi devono stare lì. Intanto consentimi, intanto Russo dovrebbe chiedere scusa ai miei uffici. No, ha detto invece che vorrebbe andare con lei a Roma, sentite? Dopo ti spiego. Dove chiedere scusa perché gli ha dato dei falsi ai miei uffici, questo è sbagliato, non si dice mai a chi lavora con serietà. Guardi cosa facciamo, facciamo noi un piccolo sondaggio. Votate no, che hanno bisogno di questo sondaggio sinistro. No, ho detto, poveretti, sai, non sanno, non vedi che non sanno dove andare, hanno le regionali il prossimo anno, non sanno che sante votarsi, allora votate no, li diamo la soddisfazione, dopo naturalmente la facciamo.